I tribunali minori abruzzesi possono tirare un sospiro di sollievo. Nella notte infatti le commissioni riunite della Camera hanno approvato all'unanimità la proroga fino a tutto il 2023. In Abruzzo la legge sul riordino della geografia della giustizia infatti il prossimo 14 settembre avrebbe fatto calare la scure sui presidi di Lanciano, Vasto, Avezzano e Sulmona. Il presidente della regione Marco Marsiglio già ieri in occasione della visita del premier Mario Draghi ai laboratori del Gran Sasso aveva espresso la convinzione che l'appello dei parlamentari abruzzesi e non potesse essere accolta dal ministro della giustizia per guadagnare il tempo necessario ad una discussione più approfondita. E così è stato. Il ministro Cartabi ha deciso di andare incontro alle esigenze seppure accorciando i tempi di qualche mese rispetto alla richiesta iniziale che era di due anni e concedere il 2022 e il 2023. Non dunque fino al settembre 2024 come si sperava. Non potevo ricevere un regalo migliore per il mio compleanno, ha dichiarato in mattinata il governatore della regione Marsiglio. Ringrazio tutti i parlamentari a partire da quelli abruzzesi che hanno saputo fare squadra e raccogliere il nostro appello a portare a casa il risultato. Un ringraziamento speciale, continua Marsiglio, a quei parlamentari che pur non essendo abruzzesi hanno votato a favore, molti dei quali dopo aver anche sottoscritto e sostenuto l'emendamento da me sollecitato. L'intero Parlamento, nessuna forza esclusa, ha nuovamente espresso la propria volontà. Questa vittoria adesso dobbiamo farla fruttare fino in fondo. Dobbiamo proseguire nella comune azione per arrivare ad una soluzione definitiva, sapendo che non si può continuare all'infinito con proroghe che lasciano nell'incertezza e alla lunga depauperano e logorano l'attività dei tribunali e di chi vi opera. Soddisfazione bipartisan per la proroga da parte delle forze politiche. Per il deputato abruzzese di Italia Viva Camillo D'Alessandro la proroga è di due anni. Ciò significa che il legislatore non esclude di estendere la proroga fino al 2024. Non si tratta solo di aver guadagnato tempo, continua D'Alessandro, ma di inserire finalmente il caso Abruzzo all'interno della complessiva revisione della geografia giudiziaria italiana. Ci siamo fatti ascoltare, abbiamo battuto i pugni sul tavolo, ma soprattutto abbiamo convinto grazie all'unità di lavoro con sindaci, ordini e territorio. Per il segretario regionale di Fratelli d'Italia Sigismondi si tratta di un risultato ottenuto grazie alla tenacia dei territori, attraverso un grande lavoro di condivisione ed azioni di costante raccordo tra regione, comuni, ordini professionali e parlamentari e anche grazie all'interrotto impegno del presidente Marsiglio. Per Elisabetta Merlino, vice segretaria e responsabile giustizia del PD Abruzzo, si tratta naturalmente di un primo passo che ci dà respiro e possibilità per lavorare ad una soluzione che vada oltre il semplice rinvio. Il servizio reso dai tribunali di Avezzano, Vasto, Sulmone e Lanciano, continua Merlino, ai cittadini e al territorio dovrà essere riconosciuto strutturalmente perché di questi presidi è stata ampiamente dimostrata la centralità e l'efficienza.